Mai più tirocini gratuiti, mai più stage che non siano davvero momenti formativi ma che invece sono lo strumento per sfruttare poi il lavoro delle nuove generazioni. Contratti come purtroppo oggi sono sottoscritti a 4 euro e mezzo, a 5 euro l'ora, a 6 euro l'ora sono contratti che non assicurano quella che la Costituzione chiama un'esistenza libera e dignitosa. Se anche ci fosse uno solo che rifiuta un lavoro sfruttato perché ha la possibilità di avere il reddito di cittadinanza allora vuol dire che quella è una norma di civiltà. È abbastanza surreale che dopo due anni di pandemia e adesso con le conseguenze economiche e sociali della guerra nel momento in cui esplodono le disuguaglianze e la sofferenza sociale è al culmine si discuta non di migliorare o di rafforzare il reddito di cittadinanza ma addirittura di abolirlo. Di fronte a quest'attacco noi ci schieriamo a difesa del reddito di cittadinanza perché nel nostro paese le forze politiche di destra stanno mettendo in campo una vera e propria crociata che non è contro la povertà ma è contro i poveri. E gli argomenti che vengono usati sono ancora più gravi delle intenzioni politiche perché tradiscono una sorta di disprezzo nei confronti dei poveri come se la povertà fosse una colpa. Renzi parla dei giovani che vogliono stare sul divano la Meloni addirittura ha parlato di metadone di Stato. Nel corso di questi ultimi anni i percettori di reddito di cittadinanza sono stati tra 2 milioni e 6 e 3 milioni complessivamente. Di questi quasi un milione sono bambini, 600 mila sono anziani, decine di migliaia sono disabili. Questi sono quelli che prendono il metadone secondo la Meloni. I numeri più recenti ci dicono che il 20% dei percettori di reddito di cittadinanza sono lavoratori, lavoratori poveri. Questo è lo scandalo con il quale noi dobbiamo fare i conti. L'altro argomento che è stato utilizzato è che i giovani non vogliono lavorare. La verità è che i giovani non è che non vogliono lavorare, i giovani non vogliono essere sfruttati, non vogliono accettare salari da fame. E allora se anche ci fosse uno solo che rifiuta un lavoro sfruttato perché ha la possibilità di avere il reddito di cittadinanza, allora vuol dire che quella è una norma di civiltà. Nel nostro paese abbiamo una questione salariale che precede la pandemia, precede la guerra e le sue conseguenze economiche, solo che l'inflazione la rende adesso insostenibile. Il centro-sinistra, di fronte a quei numeri sui salari, al mondo del lavoro deve chiedere scusa. Una volta che ha chiesto scusa per la sua parte di responsabilità su quello che è uno scandalo in Europa, la nostra condizione salariale, bisogna decidere che cosa fare. E bisogna agire su tre fronti, secondo me. Il primo fiscale, qui però possiamo dire anche un po' quello che abbiamo fatto, perché nel governo precedente Gualtieri è stato protagonista della più grande riduzione delle tasse a favore dei lavoratori a reddito medio-basso. Poi c'è una seconda questione. In questi giorni gli economisti, quelli più raffinati, i professori ci spiegano, certo, il problema dei salari, sì, ma il problema è la produttività. Solo che è vero che la produttività nel nostro paese è cresciuta meno rispetto agli altri paesi, ma mentre la produttività è cresciuta, i salari sono diminuiti. Se volessimo allineare alla produttività, i salari dovrebbero essere rivalutati del 15% del nostro paese. E poi c'è lo scandalo del lavoro povero. Più di 5 milioni di persone portano a casa in un anno meno di 10.000 euro, così non si campa. E io credo che su questo sia ineludibile introdurre nel nostro paese un salario minimo nell'ambito della contrattazione collettiva. Noi abbiamo fatto un agora, abbiamo lanciato una serie di proposte su questo, c'è anche una nostra proposta in campo e siamo pronti subito ad approvarlo anche in commissione al Senato dove c'è un provvedimento. Bisogna semplicemente affrontare alcuni dettagli tecnici perché non possiamo introdurre un salario minimo che poi faccia saltare la contrattazione perché non abbiamo solo bisogno di salario minimo, abbiamo bisogno del resto delle tutele. Io dico sempre non solo salario minimo ma tutele massime. Però contratti come purtroppo oggi sono sottoscritti a 4,5 euro, 5 euro l'ora, 6 euro l'ora, sono contratti che non assicurano quella che la Costituzione chiama un'esistenza libera e dignitosa. Non so se questa maggioranza che ha opinioni così diverse sia in grado di approvare una legge sul salario minimo. Io penso che non sia un interesse di parte del Movimento 5 Stelle, del Partito Democratico, delle forze progressiste, ma sia oggi un'urgenza del nostro Paese. Tuttavia se anche noi non riusciamo a approvarla questa legge, questa legislatura, io credo debba essere il cuore di una proposta progressista con la quale convincere gli italiani da qui alle elezioni politiche. Ho fatto una critica al Partito Democratico negli anni scorsi proprio perché aveva smarrito una sensibilità sociale, un'attenzione ai temi sociali e dell'uguaglianza che invece è la sua radice e la sua bandiera. È la rottura col mondo del lavoro, che è vitale questo rapporto per una forza di sinistra e per una forza progressista. Non si è compiuta solo con Renzi, io sono stato un critico del Jobs Act, ma alla luce di quei numeri che commentavamo è qualcosa di più profondo e che risale anche a prima. Solo che noi questo tema adesso l'abbiamo messo a fuoco, ci abbiamo fatto un congresso per recuperare terreno, le battaglie per il lavoro in questo momento, anche in questo governo con il ministro Orlando, ma negli ultimi anni hanno visto il Partito Democratico protagonista, dal blocco dei licenziamenti alle battaglie per la difesa degli stabilimenti contro le delocalizzazioni selvagge. Accanto alla questione salariale, l'altra priorità appunto a proposito di responsabilità del centro-sinistra è combattere la precarietà in particolare delle nuove generazioni. Partendo da questa condizione di bisogno, noi è lì che batteremo la destra nazional-populista, che è un pericolo in tutta Europa, ma anche nel nostro paese. Innanzitutto spezzando questa spirale di precarizzazione all'interno dei luoghi di lavoro, che inizia subito per le nuove generazioni, con gli stage che non sono stage, con i tirocini che non sono tirocini e che molto spesso non sono retribuiti, e questo è un'ulteriore forma di sfruttamento. Mai più tirocini gratuiti, mai più stage che non siano davvero momenti formativi, ma che invece sono lo strumento per sfruttare poi il lavoro delle nuove generazioni. E allora di fronte a uno che ti dice, no io a queste condizioni di lavoro non ci vengo a lavorare, c'è una risposta che è quella della destra che dice, vabbè sapete che c'è, togliamogli pure il sussidio, affamiamoli di più. Oppure c'è la risposta che dovrebbe essere la nostra e deve essere quella della sinistra, che è paghiamoli di più. Diamo alle persone anche la possibilità, anche attraverso una retribuzione giusta, una retribuzione dignitosa, di costruirsi i propri percorsi di affermazione, di realizzazione personale, di crescita nei quali di lavoro.